Salve a tutti ragazzi, eccoci ritornati su Tekken 3 Nello scorso episodio abbiamo finito, abbiamo completato la storia con Giulia e con Lou Ed oggi faremo invece Faremo la storia, vediamo un po' contro... con chi avevo detto la scorsa volta Ne faremo contro Brian, e adesso facciamo Brian come uno dei miei preferiti E nel prossimo invece faremo Yoshimitsu Allora... perché non mi fa più quella... eccola, questa è la super mossa Ma la ricorda a memoria... infatti il sacco di combo le ho tutta a memoria Eccola, questa pure è bella Vieni qua Bella così Che poi Brian mi sembra che era un cyborg, se non sbaglio, correggetemi se sbaglio Sì, come super mossa non... non leva tanto Giusto perché è veloce Alla super mossa quella... quella più forte penso che sia il pugno di Paul Se non sbaglio, non è che le conosco tutte di tutti i personaggi No, la maggior parte, sì, di quelle che conosco io, Paul mi sa che... Ecco, non la stava a fare lui, non siamo stati più feroci Sì, quella di Jin Intanto un altro perfect Oggi siamo a 6 perfect, ho fatto In due video Quattro in uno e due su questo Round 1 E' un personaggio molto molto complicato da usare, Brian Ah, il suo personaggio è veloce ed è pure forte Ok Burnit neanche chi mi è andato no, io non fai perfetto no, io non fai perfetto Ah, metà vita la leva No, mi sembra pure Pure Orang aveva una super mossa che levava il botto Ma non mi ricordo come si faceva Tempo fa e sapevo fare tutte Cioè, tutte no, però La maggior parte le sapevo fare Adesso mi ricordo quelle più semplici Ah, finalmente per la prima volta Affrontiamo la sorella di Nina Ah Si è stata lentissima Stava ferma Cos'è sveglia la danna? Beh ci sta eh Adios Andiamo un po' all'ottavo Gin Con Gin Con Gin ce l'ho fatto il video, si Ciao Gin Guarda eh Vaffanculo Ci mancava poco ma Lo sapevo Non lo sentivo bene L'hai perso Ah, volevo finirlo così ma Quanto pare Non posso Così sì invece Ah, stavolta vediamo se con gli acci riusciamo a vincere Subito, al primo tentativo Mi piace bello furbo Mi piace bello furbo È andata male stavolta spostate Niente Niente, mi sa pure che stavolta l'altra delle volte con gli acci Guarda sta mossa Mamma mia ragazzi Ho fabulogliato sta mossa Me l'ha fatta cento volte Ho fissato con le Power Bomb Vaffanculo Dai andiamoci a vincere anche sto round Vaffanculo Round 1 Fight Cioè Ogre è veramente intelligente Lui quando Cioè si sposta spesso Eh, sta volta però è andata male No come prima Round 2 Fight Stava a tirar fuoco Narto perfect e siamo mi pare a 3 Abbiamo fatto 7 perfect in due partite In due video Sì, si vede Un umano che non può fare questo Bam Perfetto, adesso andiamo a vedere Chi abbiamo sbloccato Ogre Ogre Bene, i prossimi video saranno fatti con Yoshimitsu e con Ogre Quindi ragazzi per oggi i video si concludono qui Se vi è piaciuto lasciate Se vi è piaciuto lasciate like, condividete, iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto Se lo avete fatto invece attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati Ragazzi, buona domenica Ci vediamo nel prossimo video Ciao